bella tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video mamma mia ovviamente ragazzi dedicato a io sono xyuder e ragazzi non siamo qua a buttare perle ai porci ma stiamo per darvi un nuovissimo codice che ci ha dato il nostro amico codin che dobbiamo ringraziare quindi grazie codin per averci dato il codice dai non lo insultare non lo insultare che ci dà i codici ragazzi che si scusa non si faccio un buco nella pancia e non so cosa dire non so cosa dire non chiede scusa non chiede scusa non chiede scusa vada com'è sei venduta rosia sei venduta il codice ragazzi che stiamo per darvi oggi sapete benissimo dove andare ad inserirlo spiegagli all'amore mio devono cliccare sul vostro livello di gioco brava là in alto a sinistra e poi cliccate e inserite il nuovo promo code di oggi ma prima di inserire il promo code ragazzi e lo sapete dai scadagan smazzatevi un sacco di like mi raccomando e mi raccomando iscrizione attivazione campanella e un bel like ragazzi il codice ve lo stiamo per dare nuovo promo code è game time game time ragazzi andiamo a mettere ok invia codice uia mamma mia mamma mia quanto è scivoso il toscanielo è il più tos beh ragazzi io noi vi ringraziamo per aver seguito anche questo video suo den e noi ci vediamo prestissimo ciao ciao